Per coloro che ancora non capiscono abbastanza, per coloro che sostengono la scienza, che si fregano ancora le mani dicendo che tutta questa cosa del tempo è talmente inventata, che tutte le scie nel cielo sono solo condensa e che tutte le cose ridicole del tempo che abbiamo e che abbiamo avuto da un po' di tempo a questa parte, fa parte del riscaldamento globale, sappiate che errorano i cieli. Hanno iniziato a dichiarare apertamente che spruzzano i cieli nel 2017 proprio come vi avevo detto. Tutto è cominciato quando sono usciti ufficialmente decidendo di smentire completamente le scie chimiche. 77 scienziati dell'atmosfera e geochimici le hanno smentite. Poi all'inizio del 2017 l'Università di Harvard ha affermato pubblicamente il 24 marzo 2017 spiegando a chiunque come il riscaldamento globale, come le emissioni di carbonio, come tutto quanto sia terribile e ci hanno dato questi lunghi 7 minuti e 59 secondi di video con delle belle musichette con rendering di immagini fatti da artisti della terra, del sole spiegandoci che iniziavano a spruzzare il cielo, anche se li abbiamo visti fare esattamente questo da decenni, da decine di anni. Ma adesso hanno voluto dircelo, che ci crediate o meno hanno dato un'ulteriore tacca per coloro che amano dare per scontato, per coloro che vedono le cose con i propri occhi e forse questo vi entrerà in testa. Per quelli che già capiscono fate girare questo video, condividetelo assolutamente dovunque, perché pensate solo a quanto sta diventando dannoso, stanno irrorando da anni, ma all'improvviso eccoli che decidono di uscire e spiegare in ogni dove come hanno iniziato ad entrare nel punto e dover ammettere quello che erano le mie divagazioni. E se avessimo trovato il modo per raffreddare il pianeta? Gli eventi meteo straordinari sono diventati sempre più comuni e violenti e la temperatura della superficie della terra continua ad alzarsi, così come la violenza dei fenomeni naturali. Nel 2018 gli scienziati faranno dei passi audaci per esplorare la tecnologia, in grado di invertire gli effetti del cambiamento del clima. È un progetto di ingegneria che riguarderà letteralmente ogni essere vivente sul pianeta. Stanno cercando un modo per riflettere la luce del sole, rimandarla nello spazio e raffreddare la terra. Le agenzie assicurative hanno detto che il numero dei disastri collegati al clima sono quadruplicati dal 1970. Mentre i leader mondiali discutono e contestano sul cambiamento del clima e di come l'uomo col suo comportamento modifica la terra, alcuni scienziati discutono su come cambiare la terra stessa. Nel 2018 intaccheranno la stratosfera per imparare cosa si deve fare o quanto costa raffreddare direttamente il pianeta. La geoingegneria è la scienza pioneristica che sarà sulle labbra di tutti nel 2018. L'idea della geoingegneria è l'idea che l'umanità volutamente influenzi il clima del pianeta. La geoingegneria solare, nello specifico, è l'idea di introdurre una sostanza nella stratosfera che raffredderà il pianeta riflettendo la luce del sole. La stessa idea di indossare una camicia bianca in estate, la camicia bianca riflette il sole e non si prova il calore come quando si indossa una camicia nera. È l'uomo che deliberatamente cerca di avere effetto sul clima, un modo fondamentalmente differente di pasticciare col clima come abbiamo fatto da secoli. Il team dell'università di Harvard è il primo al mondo per testare gli effetti che può provocare la geoingegneria solare nella stratosfera. Il nostro esperimento sarà fatto con un piccolo pallone dal peso di poche centinaia di chilogrammi che volerà fino a 20 chilometri nella stratosfera, il doppio dell'altezza di un jet commerciale. Rilascerà una piccola quantità, meno di un chilogrammo di materiale, poi andrà avanti ed indietro per misurare come questo interagisce con la chimica di base della stratosfera. Quello che rende unico questo esperimento è che non c'è mai stata una introduzione intenzionale nella stratosfera per studiare che impatto ha. Gli esperimenti del 2018 non avranno un impatto sul clima, ma se un giorno questo controverso intervento verrà realizzato, potrà frenare gli eventi eccezionali del meteo. La bioingegneria offre l'opzione di ridurre il danno che le persone possono soffrire veramente decine di milioni o centinaia di milioni. Se diminuiamo il sole di appena un po' porta l'energia della Terra in equilibrio e questo può ridurre in qualche modo il rischio di estremi uragani o di estreme temperature. La geoingegneria solare ha il potere di salvare vite, ma nello stesso tempo crea rischi sconosciuti. Si introduce qualcosa nell'ambiente che non si trova là, naturalmente avrà degli effetti collaterali. Possiamo sapere se potranno essere grandi o piccoli. Se l'uomo decide di fare questo ci saranno delle profonde incertezze su cosa succederà e quali rischi avrà. E c'è la paura che la mera ricerca della geoingegneria possa essere dannosa nella battaglia a lungo termine contro il cambiamento climatico. C'è un alto numero di rinomati e rispettati scienziati, i quali dicono che non si devono fare esperimenti di geoingegneria solare. Quello che li riguarda è che si possa far pensare alle persone che c'è una opzione a disposizione per la soluzione del cambio climatico. Ora, fate attenzione che non dicono che stanno spruzzando da 20 anni come abbiamo visto, come in realtà diversi canali hanno iniziato a fare anni fa e che sta andando avanti da tempo. Usano proprio una bella dialettica quando ci dicono che il grande problema per cui gli scienziati sono preoccupati, qualora facciamo questo, è che le persone pensano che non siamo in grado di fermare l'inquinamento, mentre in realtà errorano da tempo immemorabile. La geoingegneria solare, al massimo, è un supplemento per tagliare le emissioni, non il sostituto per diminuire le emissioni. Alcuni ambientalisti dicono che il modo per ridurre le emissioni di diossido di carbonio può perdersi se viene visto come un modo rapido per sistemarlo e decidere chi controlla la tecnologia che interessa a tutti sul pianeta non potrà essere facile. Ci saranno dei disaccordi su dove fare questo e su come farlo velocemente e quelli che non saranno d'accordo daranno il via a tensioni internazionali. Alla fine la geoingegneria potrebbe dimostrare che non vale la pena correre il rischio, ma ignorarlo adesso può essere più pericoloso. Credo che scegliere l'ignoranza contro la conoscenza non è mai stata la giusta scelta. La nostra generazione non è quella che decide, sono i nostri figli o i loro figli che faranno le vere decisioni sulle realizzazioni. Fondamentalmente la mia visione è che dobbiamo dare ai nostri figli più informazioni. Se non facciamo le ricerche daremo a loro il dono dell'ignoranza. Questo è un video che ho fatto nel dicembre del 2012. Buongiorno youtuber, mi trovo a Boston, nel Massachusetts. L'aeroporto Logan si trova là in fondo. E qui, cari miei, ecco una bella scia chimica. La vedete, eh? Una bella roba. Ma la cosa migliore di oggi è che proprio sopra Boston, al momento, ci sono cinque jet che creano delle forme nel cielo. E questo signore qui sta volando proprio nel loro campo. proprio attraverso questo. La cosa strana è che queste forme nel cielo si riescono a vedere a malapena perché si dissipano diversamente da questa che non sparisce da nessuna parte. Quello che voglio dire è osservatela. Riuscite a vedere aerei che volano alla stessa altezza delle scie chimiche? Qualsiasi cosa siano quelle forme lasciate nel cielo probabilmente stanno usando questa roba. Perché chiunque l'ha usata rimane sempre lì per ore ed ore. e poi si trasforma in queste cose qui come quelle che si vedono. Mi trovo proprio vicino all'aeroporto Logan. Vedete tutti gli aerei? Io ho vissuto qui tutta la mia vita. Ho molta familiarità con tutti questi aerei. Non so se riuscite a vedere questo. Il sole è proprio sopra di me. È proprio sopra di me. Questa è una scia chimica. Probabilmente è di centinaia di miglia che si trasforma in grosse nuvole. E queste cose dannose, lunghe, parecchie miglia sono esattamente adesso sopra la spiaggia. Vedete l'oceano là in fondo. E nel frattempo questo tizio che vedete è completamente normale. Solo condensazione. Questi signori non stanno progettando nulla. Non stanno pianificando niente. Il problema è che nel 2018 come vi ho detto lo scorso anno inizieranno a spruzzare così tanto che tutti quanti lo noteranno. Ad esempio, semplicemente le cifre delle settimane all'inizio di dicembre non funzionano proprio così. Questi tizi sono uomini malati. E la sola cosa che possono fare veramente è di terraformare il pianeta. Terraformare, persone come questa. Con queste parole i demoni non catturano l'essenza di cosa sta succedendo qui. Non so se qualcuno di voi è tifoso della misteriosa finzione del cambio del secolo ma questo signore chiamato HP Lovercraft che è stato un famoso scrittore americano di fantascienza ha svelato una visione chiamata cosmicismo. E l'essenza del cosmicismo è l'indifferenza cosmica. quello che dice è che fondamentalmente ci sono tutte queste massicce entità intelligenti là fuori che non sono buone non sono cattive non gli frega nulla e niente di voi minimamente nello stesso modo di quanto a voi interessa una formica nello stesso modo di come si interessano di voi e queste cose che vengono convocate nel mondo adesso non sono demoni non sono maligne nello stesso modo di quanto a voi interessa una formica nello stesso modo di come si interessano di voi e queste cose che vengono convocate nel mondo adesso non sono demoni non sono maligne ma sono molto più simili a quelle del grande Lovercraft dell'entità che non sono necessariamente in linea con quello che vogliamo in un punto molte persone credono che la presenza di fantasmi fa scendere la temperatura di un punto nella casa bene il motivo per cui ho mostrato questo clip che parla dei punti freddi è un modo per dirvi se avete dei fantasmi nella vostra casa bene se mettete insieme tutto quello che sta succedendo prevalentemente nella scienza fra i costruttori delle onde quantiche di spiegano infatti che stanno convocando fra virgolette quelli vecchi che questi pazzi stanno spingendo per bloccare completamente il sole pensateci a questo perché all'improvviso hanno dovuto uscire allo scoperto nel 2017 per spiegare che stanno iniziando ad errorare il cielo un video che risale a sette anni fa che dimostra che stanno spruzzando il cielo da anni quando sappiamo del lavoro delle loro persone che è quello che hanno sempre voluto fare possedere il clima il clima come arma potete beffare deridere pensare tutto quello che volete non fa alcuna differenza ma le evidenze sono proprio qui di fronte a voi non possiedo l'università d'Orva non possiedo l'economist e non lavoro per le onde quantiche di queste sono le loro parole e ci siamo abituati ad interpretarle per le persone ma non più perché ce lo stanno dicendo coloro che hanno la conoscenza diretta con queste parole i demoni non catturano l'essenza di cosa sta succedendo qui e e a a a a a a Grazie a tutti.